Buonasera a te gli aspettatori di Nettuno TV, buonasera agli ascoltatori di Radio Nettuno, benvenuti a chi ci segue in streaming NettunoTV.tv E' morto ieri sera nella sua abitazione di San Lazzaro di Savena il presidente della Fraternità Cristiana Opera Padre Marella, città dei ragazzi, Osvaldo Zocca. Con lui scompare un testimone di Don Olinto Marella, le esegue verranno celebrate mercoledì 19 alle 10 presso la chiesa della Sacra Famiglia di Via dei Ciliegi all'interno della città dei ragazzi di Don Marella. Zocca stesso venne accolto e accudito dall'opera dopo essere rimasto orfano di padre e la madre non poteva mantenere lui e suo fratello. Era nato a Bologna il 15 dicembre del 1933, ha speso la sua vita nella città dei ragazzi di San Lazzaro a testimonianza della carità cristiana dell'opera. Nei suoi racconti Osvaldo diceva che da giovane non si rendeva conto di quanto il padre facesse per ciascuno di loro. Quello che aveva capito era che padre Marella dava maggiori responsabilità ai ragazzi più difficili e scapestrati per responsabilizzarli e lui era uno di quelli. Siamo alla cronaca. Rapina con aggressione in Via Nazario Sauro a Bologna. Due persone sono state fermate, ritenute le responsabili di un'aggressione con rapina, i danni di uno studente in Via Nazario Sauro. I sospettati sono stati bloccati in Via Alessandrini dopo diverse ricerche nella zona. Tra l'allarme verso l'una e mezza di notte è stata la stessa vittima che ha raccontato di essere stata accolta di sorpresa da due uomini che assalendola ai lati l'avrebbero percossa violentemente in faccia prima di sfirargli il portafoglio. Il giovane caduto a terra ha riferito che le percosse sono continuate anche dopo con calci e pugni nel tentativo di sottrargli anche il cellulare. Il giovane è aggredito però non ha mollato la presa e dopo aver visto allontanare i due ha immediatamente chiamato gli agenti di polizia. Cambiamo decisamente pagina. La strategia europea è determinante. Noi abbiamo due questioni di affrontare. Una è la questione italiana che sono le cose che dobbiamo fare noi come paese. L'altra è una grande questione europea con una stagione riformatrice. Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria Nazionale, oggi a Bologna per il passaggio di consegne di quella regionale. Andiamo a sentire al microfono di Michela Conficconi. La ripresa c'è e determina il fatto che sulla questione industriale dobbiamo lavorare affinché diventi la grande questione nazionale. Emilia Romagna diventa una punta avanzata perché sono sopra la media rispetto ai dati nazionali che dimostra come la parte industriale del paese sta reagendo, una parte dell'apparato, perché in realtà poi nelle medie dobbiamo avere profondità di interpretazione. Una parte dell'apparato industriale sta reagendo, una parte ancora un po' indietro. Dobbiamo fare in modo che tutti vadano verso una dimensione di crescita interna all'impresa ed esterna al paese. Usando la crescita non come fine ma come una grande precondizione per contrastare diseguaglianze e povertà. Occorre imparare a guardare all'estero? Occorre assolutamente imparare a guardare all'estero perché i mercati globali sono mercati di niccia e i mercati di niccia sono mercati per gli italiani. Questo comporta il fatto che piccolo non è più bello ma ha una condizione da superare. Dobbiamo crescere per affrontare mercati globali, mercati in cui il Made in Italy è uno dei marchi più riconosciuti al mondo. Il mondo aspetta manifatture italiane e noi dobbiamo prepararci a conquistare in senso positivo ed economico il mondo. È evidente che l'Italia però non può fare da sola in questa dimensione. Qui c'è un problema di aiutare gli altri paesi però il problema è come aiutarli. È evidente che questo è un altro divario, è un divario verso i poveri dell'altra parte che forse dobbiamo e possiamo aiutare con un grande progetto europeo, una sorta di piano Marshall per l'Africa. Le parole di Prodi degli ultimi giorni mi sembrano più che condivisibili su una grande attenzione dell'aria. È Pietro Ferrari il nuovo presidente di Confindustria Emilia Romagna. Questo è l'esito della votazione che si è tenuta all'Opificio Colinelli di Bologna e che ha sancito il passaggio ufficiale del testimonio con Maurizio Marchesini, numero uno degli industriali della regione degli ultimi quattro anni e mezzo. Ferrari è nato a Modena nel 1955 e dopo aver conseguito la maturità scientifica si è laureato in Ingegneria Civile e dell'Università di Bologna. Ricopre l'incarico di presidente dell'azienda familiare Ingegner Ferrari S.P.A., sull'età leader nella realizzazione di impianti industriali meccanici e elettrici di celle climatiche di Clean Room che compirà a breve, tra l'altro, il secolo di vita. Ma sentiamolo Ferrari al microfono di Michela Conficoli. La crisi non è ancora superata perché una parte delle aziende dell'Emilia Romagna e non solo sono ancora in difficoltà, quindi diciamo che siamo in una svolta dopo una presidenza Marchesini che reputo eccezionale ed è uno dei motivi per cui francamente ho avuto molti dubbi nell'accettare perché sapete, quando si viene dopo qualcuno che ha fatto molto molto bene si rischia di fare meno bene. Comunque con Maurizio il rapporto è importante, mi hanno passato un po' di carte ma come ho detto sono fuori allenamento. Io ho un'esperienza anche di vicepresidenza regionale che è durata sei anni quindi nella regione Emilia Romagna noi abbiamo sempre creduto abbiamo visto come si fa in presa, abbiamo superato il momento del terremoto che non è solo stato il momento del terremoto ma è stato il momento in cui abbiamo cercato di far capire cos'è il valore dell'impresa in questa regione. Ci sono delle priorità sulle quali occorre puntare? Io non sono un uomo di lettere ma sono un uomo di studio quindi io ho un dossier che mi è stato dato la scorsa settimana da studiare, da valutare, da guardare, consolidare il rapporto con la regione aumentare se è possibile gli investimenti in questa regione per creare l'occupazione indispensabile per una crescita di tutto il sistema. Andiamo a sentire anche le parole del presidente uscente Maurizio Marchesini sempre al microfono della nostra Michela Conficoli. Cinque anni sono lunghi, sono stati cinque anni interessanti, importanti, difficili mi sembra che le condizioni siano un po' migliorate quindi lascio anche la mano in una condizione un po' migliore di quella che ho trovato. A me non piace fare bilanze, io sono imprenditore, guardo al futuro guardo alle cose che ancora accadranno ci saranno tante belle cose che devono accadere all'industria dell'Emilia Romagna e sono sicuro che il mio successore sarà più bravo di me ad approfittare di queste nuove possibilità che ci sono. Cosa le sarebbe piaciuto realizzare? Penso ad esempio l'infrastruttura ha sempre detto che ce n'era bisogno. Avete detto cose brevi, io se vi faccio elenco di quello che mi sarebbe piaciuto realizzare non finiamo più, no tante sono le cose che mi sarebbe piaciuto fare però alla fine visto che mi costringete un bilancio direi che il bilancio finale è un bilancio positivo e adesso bisogna andare oltre finora abbiamo ricostruito migliorando quello che avevamo prima anche sulle macerie economiche e ora dobbiamo fare le cose nuove che ci si aspetta da noi nel futuro in azienda. Io sono un imprenditore ragazzi, ho un'azienda, un'aziendina che ha bisogno di me un'aziendina insomma. Noi non possiamo accogliere un numero di persone che vengono fuori dall'Unione Europea senza da loro da lavorare se arrivano migliaia di persone la situazione diventa drammatica rischiamo di far perdere il lavoro ai cittadini europei per darlo a persone che rischiano di essere scontente e Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo che ai nostri microfoni ha voluto ribadire questo tema sull'accoglienza ai migrati, sentiamolo La proposta di un intervento in Africa è una proposta che la Commissione Europea e il Parlamento Europeo hanno avviato da tempo già ci sono investimenti importanti il Parlamento Europeo ha approvato un investimento di circa 4 miliardi per l'Africa con un effetto leva di circa 40 miliardi dobbiamo andare avanti in questa direzione è chiaro che se non si interviene con cifre ancora più elevate io penso che servono almeno 40 miliardi per avere un effetto leva di 400 miliardi nell'Africa del Nord e nei paesi dell'Africa subsahariana nei prossimi anni avremo milioni di immigrati che si sposteranno dall'Africa verso il Nord e verso l'Europa L'Italia chiede più generosità però nell'accoglienza degli immigrati e c'è questa disponibilità da parte dell'Europa? C'è da modificare anche Triton perché è un accordo che ha penalizzato il nostro paese purtroppo l'errore è stato commesso dall'Italia è inutile dire che è colpa degli altri l'Italia ha firmato un accordo che prevede che le navi degli altri paesi dell'Unione Europea sbarchino gli immigrati raccolti nel Mediterraneo in Italia noi non possiamo accogliere un numero di persone che vengono fuori dell'Unione Europea senza poi poter dare loro da lavorare se si arrivano migliaia di persone e in futuro anche milioni di persone la situazione diventa drammatica cioè rischiamo di far perdere lavoro ai cittadini europei per darle a persone che poi rischiano neanche di poter essere accontentate quindi la questione immigrazione la questione anche occupazione giovanile sono strettamente collegate torniamo a occuparci del caso di due bambini che si sono allontanati durante il campo estivo dalle scuole Betti-Giaccaglia del Parco della Montagnola una volta che sarà completata l'istruttoria amministrativa dell'istituzione educazione e scuola del Comune di Bologna sull'allontanamento come detto di due bambini di 5 e 6 anni lo scorso 10 luglio sarà acquisita dal fascicolo penale aperto dalla Procura del fascicolo per abbandono di minori a carico di ignoti è titolare del PM Augusto Borghini con il coordinamento del procuratore aggiunto Walter Giovannini intanto proseguono gli accertamenti delegati al NAS su quanto è successo la mattina del 10 luglio quando i due bimbi dopo aver girovagato per circa un'ora nel centro storico sono stati poi trovati dalla titolare di una trattoria è emerso che i piccoli dopo essere usciti li sono inizialmente diretti verso la casa di uno dei due poi sono stati trovati dalla ristoratrice sono stati caricati da una volante della polizia cambiamo pagina parliamo delle nostre vacanze parliamo però delle strade vacanze coi fiocchi la campagna nazionale come sapete estiva per la sicurezza sulle strade l'iniziativa giunta alla sua diciottesima edizione promossa dall'osservatorio per l'educazione della sicurezza stradale dell'Emilia Romagna e dal centro Antartide l'invito di quest'anno è quello di andare più piano sulle strade delle vacanze e concedersi viaggi più rilassanti e sicuri andiamo a sentire le parole dell'assessore ai trasporti dell'Emilia Romagna Raffaele Donini i dati dicono che quest'anno anzi nel 2016 sono il 6% in meno i morti sulle strade e anche i feriti diminuiscono pur nella parità degli incidenti ma ci sentiamo ancora molto impegnati a sensibilizzare i cittadini che si mettono alla guida di un veicolo affinché moderano la velocità e non cedano diciamo alla disattenzione quindi anche quest'anno vacanze coi fiocchi si impone di raggiungere i cittadini anche in vacanza perché la sicurezza non va in vacanza con una campagna di sensibilizzazione proprio volta a far sì che nel traffico si moderi la velocità e ovviamente non si cede al passo alla disattenzione Proseguono in città parliamo dei lavori i cantieri stradali programmati per queste settimane estive la prossima settimana ovvero da mercoledì 19 di luglio ovvero questa settimana toccherà via Tagliapietre nel tratto che vada via Carbonesi a via Urbana necessario infatti ripristinare la pavimentazione della strada i lavori saranno eseguiti in due fasi dal 19 al 21 luglio siamo sempre in questa settimana via Tagliapietre sarà dunque chiusa tra via De Carbonesi e via Urbana mentre tra il 21 e il 24 luglio la chiusura al transito riguarderà il tratto tra via Urbana e via D'Azzeglio Dalone di 24 è poi in programma l'avvio di un'altra serie di lavori stradali uno dei più rilevanti è il cantiere Bobo per la riqualificazione di piazza di Porta San Donato i lavori prevedono il rinfacimento completo del pacchetto stradale con l'eliminazione dei New Jersey in cemento e la realizzazione di un'isola sparti traffico in cubetti di Porfido e Centro Strada dunque attenzione seguite le indicazioni e qualche disagio ci sarà ma è per rendere la città speriamo decisamente più bella siamo alla pagina dedicata allo sport e questo pomeriggio anche la nostra troupe giornalisti e tecnici arrivati in quel di Casterrotto già questo pomeriggio lunga diretta televisiva su Nettuno TV canale 99 da domani ci sarà un collegamento in diretta televisivo tanto la mattina quanto il pomeriggio oggi però intanto c'è strada a Casterrotto la presentazione di Andrea Poli neoacquisto rosso-blu andiamo a sentire le sue primissime parole un club che io ho fortemente scelto ho voluto venire a Bologna per far bene per aiutare la società a crescere e di questo ne vado veramente onorato io volevo venire qui perché con il mio agente mi aveva comunque mi aveva comunque descritto questa società per il potenziale per il progetto si parla di una squadra comunque giovane però io comunque in questa prima settimana di lavoro ho potuto apprezzare la volontà di questi giocatori la voglia di mettersi al lavoro e questa per me è una cosa molto importante è una squadra che può crescere e deve farlo la crescita personale di un giocatore almeno da da come la penso io è il fatto di avere ambizione di avere fame e di voler lavorare per migliorare i propri difetti che tutti abbiamo me compreso quindi ripeto il progetto è molto valido io ho parlato con la società ho parlato con tutti i rappresentanti della società ho parlato con il mister ma io penso che insomma non serve neanche parlare tanto a me non piace parlare molto io sono una persona a cui non piace particolarmente parlare a me interessa far parte di un progetto che abbia la voglia e l'ambizione di crescere perché comunque qui ci sono tutte le potenzialità per farlo e a presentare il mio acquisto nella sala stampa di Casterrotto un davvero soddisfatto per questo acquisto Marco Di Vaio sentiamolo la sua carriera per quello che ha fatto fino adesso parla da sola siamo molto contenti che abbia scelto noi perché Andrea ha scelto noi tra le varie opportunità che aveva e di questo siamo molto molto contenti per noi rappresenta un giocatore oltre che tecnicamente anche umanamente un tassello importante per la nostra scuola per il nostro gruppo per la crescita dei nostri ragazzi perché comunque è un'esperienza importante ha voglia di fare ha voglia di rimettersi in gioco e ha preso questa possibilità come una grande sfida per lui nonostante che arrivasse da una scuola importante come il Milan quindi ci ha messo ci mette test e cuore per poter avere successi qui con noi per far crescere questa squadra quindi siamo molto molto felici di questo nel nostro immaginario Andrea rappresenta quello giocatore che va a sostituire Zemagli non per caratteristiche tecniche ma come dicevo prima anche come di esperienza e importanza per il gruppo in mezzo al campo per l'esperienza che lui ha quindi per noi è un giocatore molto molto importante e il fatto che lui abbia scelto noi di venire qua ci rende orgogliosi perché vuol dire che comunque Bologna viene vista anche da giocatori importanti come una piazza sta diventando sta ritornando una piazza importante quindi di questo siamo molto felici Ricordo dunque a partire appunto da quest'oggi e quindi ormai per la giornata di domani visto che oggi questo appuntamento in diretta si è già consumato saremo mattina e pomeriggio in collegamento in diretta con Casterrotto con i nostri inviati Francesca Bolognini e Mario Giulianti Giulianti su Netuno TV canale 99 e ovviamente anche i collegamenti per Radio Netuno parliamo di Pallacanestro questa mattina alla palestra Porelli è stato presentato Pietro Aradori che ha firmato un triennale per la Virtus andiamo a sentire le sue prime parole al microfono di Giacomo Bianchi ho scelto la Virtus proprio perché la Virtus Bologna soprattutto c'è un grandissimo progetto che io ho sposato in pieno sono venuto qui per cercare e voglio riportare la Virtus ad alto livello non sarà facile non sarà semplice perché ci sono tanti fattori e c'è tanta competizione però questo è l'obiettivo principale quello di tornare a vincere volevo una casa tra virgolette per anni si sta trasformando in una mega villa quindi voglio che voglio che vada tutto al meglio e come ho detto prima voglio tornare a portare aiutare insieme ai miei compagni a tutti quelli che ci sono già e quelli che arriveranno di nuovo ad alto livello a Virtus Bologna lui risolverà la sua situazione con Milano poi vediamo cosa salta fuori posso tirare dallo scarico o creare il tiro al palleggio posso creare per me stesso per i compagni sono uno intenso che va a rimbalzo questa caratteristica è quella che ho sempre portato nell'arco della mia carriera e cerco provo ogni anno di apportare qualcosa di nuovo e anche quest'anno vediamo di farlo il campionato dovrà farlo la Virtus? dovrà fare un bel campionato vogliamo che sia un bel campionato un campionato di alto livello tra l'altro non giochiamo le coppe quindi solamente una volta alla settimana e si ha tutto il tempo per preparare al meglio le partite e essere concentrati su un unico obiettivo che è quello della partita la domenica avrei potuto aspettare un po' di più e aspettare una chiamata europea perché il mercato in Europa inizia un po' più tardi però non potevo non volevo lasciare passare un terreno come quella della Virtus e quindi l'ho sposata in pieno presente anche Luca Baraldi che ha parlato delle trattative di mercato legate a Shane Loyal e ad Alessandro Gentile oltre agli obiettivi stagionali delle Vunere sentiamo Luca Baraldi a microfono ancora di Giacomo Bianchi dobbiamo dare i meriti ad Alberto Bucci perché poi alla fine il progetto tecnico lo ha costruito lui noi siamo solamente un supporto alla fine sembrava poter sfuggire questo primo obiettivo poi la trazione fatale del marchio Virtus è stata per noi fondamentale quindi al di là della bravura nostra è stato molto più facile perché comunque Virtus è ripeto una delle società o per me la società da quello che sto percependo più importante in Italia quindi un giocatore alla Virtus viene molto volentiero ma su Gentile credo che ormai siamo veramente ai titoli di coda per la chiusura anzi io ritengo che a brevissimo verrà annunciato qualcosa di importante così i tifosi avranno modo di ritornare in questa palestra molto presto per quanto riguarda la Val per quanto ci diceva il presidente prima è una trattativa che sta andando avanti molto veloce il giocatore viene molto volentieri noi lo accoglieremo anche molto volentieri il tema è semplicemente quello dello stato fisico sembra che stia bene dalle prime informazioni poi se dovessimo chiudere con la parte economica ma ripeto non siamo molto lontani essendo però il giocatore più pagato a quel punto della Virtus di questo campionato sarà sottoposto a tutti gli accertamenti clinici affinché ci possano essere le garanzie che la Val può essere un altro grande contributo al prossimo campionato della Virtus vincere perché noi siamo abituati e quando non vinciamo ci vengono impruriti nel senso no vincere non vuol dire arrivare primi vuol dire andare in campo e cercare di vincere tutte le domeniche o tutte le volte che si va poi alla fine si deve attirare la riga siamo consapevoli e rispettosi degli avversari io credo che nel primo anno di Serie A entrare nei playoff e stare lì debba essere l'obiettivo dopo tutto quello che viene in più e faremo il possibile perché possa arrivare vorrà dire che ce lo saremo meritati se arriverà bene questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale grazie al coordinamento tecnico affidato a Nicola Salerno grazie a voi che ci avete seguito l'informazione torna in diretta domani mattina a partire dalle 7 con la segna stampa questa sera alle 21 vi ricordo Nettuno TV va in Appennino l'appuntamento con il camper nelle zone di Monghidoro e di Loiano grazie a tutti grazie a tutti